Continua la piaga dei furti in abitazione in città a Vicenza. Ad essere stata presa di mira questa volta una casa singola in via Bixio. L'abitazione è sfitta da diverso tempo. La proprietaria, un'anziana di 86 anni, non abita nella casa. Viene regolarmente controllata da parenti e vicini. Proprio questi ultimi si sono accorti che la porta posteriore di accesso alla casa era stata forzata. Una volta entrati si sono accorti che l'abitazione era stata messa a soquadro e hanno avvertito la polizia giunta subito sul posto. Da una prima immediata verifica risulterebbe mancante un servizio di argenteria del valore tra vassoie e su pelletti rivari di circa 10.000 euro.